vai sul mio profilo mi togli il segui lo rimetti dopo vai sulla mia lista follower e segui i primi 15 fatelo tutti contemporaneamente tutti e 113 vedete micchi clicchiamo sulla foto di micchi e lo andiamo a seguire in basso a destra stessa cosa su erika tutta la gente che vedete in alto qua con le rose basta che cliccate sulla loro foto e li andate a seguire in basso a destra anche francia aiutatevi con le rose con i cuori blu seguiamo chi fa i cuori blu nei commenti lo chioccioliamo e lo andiamo a seguire francesca clicchiamo su francesca seguiamo francesca mi raccomando toglietevi la privacy che è il profilo privato andatevi a togliere la privacy perché se no la gente non vi segue ragazzi cliccate qua su fratellino fate segui seguite il presentatore della live dopo di che vi spostate da questa parte aprite questo podio qua e seguite le prime cinque persone di qua questo podio qua quelle cinque persone vi ricambiano subito o vi ricambiano quando stacco la live date il tempo alle persone di potervi ricambiare ragazzi grazie a chi sta seguendo il presentatore a chi sta commentando il mio ultimo video lo vedo perché mi arrivano le notifiche fatelo tutti e seguite sempre chi commenta sotto al mio ultimo video lasciando anche un like cuori blu buon pomeriggio sai cuori blu nei commenti omar rimani qua tanto fra non molto stacco gli ultimi cinque minuti li dedico per salutare le persone ciao smeralda buon pomeriggio ciao alessio tanto sto per staccare e niente le ultime cose da dirvi è di continuare a seguire la gente che sta facendo i cuori blu nei commenti la ghiocciolata e l'andate a seguire seguiamo anche mici che si mette in evidenza con le rose basta cliccare sulla foto di mici e l'andate a seguire smeralda c'ho la foto e c'ho la foto c'ho il passamontagna perché c'ho alcuni accordi con le case di discografiche e non mi posso far vedere l'unico assaggino che ti posso dare è aprire youtube scrivere mi chiamano boss e mi troverai in quel video non la canto io però e niente ragazzi quando io stacco la live perché adesso fra poco stacco e ci salutiamo mi raccomando fatele quelle due dinamiche cliccate sul mio profilo mi togliete grazie Grazie a tutti.